oh salve benvenuti ai cugini del terribile come potete notare sono impegnato nella registrazione di una trasmissione radiofonica in uno dei nostri prestigiosi studi perché voi non lo sapete ma noi cugini del terribile abbiamo questa particolarità abbiamo siamo sparpagliati un po in tutto il mondo abbiamo uno studio a madrid e un altro studio l'avrete capito tutti qui a il cairo in egitto cosa vi posso dire del cairo che voi non sappiate già poco effettivamente poco diciamo che il cairo è famosa per i suoi monumenti come ad esempio le mura le mura del cairo che appunto circondano il centro urbano e lo cingono in un tenero proprio abbraccio tutto tutto il centro e un sacco di gente viene da tutto il mondo per vedere le mura del cairo poi cosa abbiamo qua abbiamo anche il carnevale d'egitto il carnevale di alessandria d'egitto alessandria d'egitto che è una piccola cittadina qui a pochi chilometri di distanza nel quale appunto viene celebrato il carnevale una volta all'anno e un sacco di gente anche lì per vedere poi il cairo comics abbiamo il cairo comics un grande successo del cairo comics vengono migliaia di migliaia di pellegrini da tutte le parti d'egitto per assistere a questa manifestazione e dopo che vi ho detto per cosa è famoso il cairo vi posso anche dire per cosa non è famoso il cairo e lo dico per i cucini del terribile il cairo non è famoso per i cucini del terribile che sono questa praticamente che è questa trasmissione radiofonica a sfondo nerd di tematiche nerd fatta da padri nerd da quarantenni stanchi come me miliano mutterelli perché badate bene internet è pieno di gente nata alla fine degli anni 80 che vi vuole insegnare com'era il vivere negli anni 80 bel paradosso eh eh lo so per cui niente se avete interesse nel seguire cugini del terribile collegatevi con noi dove ci trovate ci trovate innanzitutto su spreaker abbiamo una nostra pagina che ospita tutti i nostri podcast abbiamo una pagina una pagina facebook abbiamo ovviamente vari contatti abbiamo un sito abbiamo pure un sito interno pensate a quanto sono avanti i cugini del terribile quindi se volete appunto ascoltare una trasmissione radiofonica che può trattare delle tematiche interessanti per voi quarantenni nerd nerd collegatevi con noi a questo punto io vi saluto e vi rimando a un eventuale altro messaggio che vi potrebbe arrivare dal mio esimio collega Emiliano Buttarelli questa volta da Madrid ciao ciao